E' stata una corsa contro il tempo, controllare tutte le liste dei bambini iscritti a nidi e materne, inviare a quelli delle materne in regola con le vaccinazioni 6.600 le comunicazioni con la documentazione da presentare all'istituto che si frequenta, contattare e fornire un appuntamento per la vaccinazione alle famiglie dei bambini in addempienti totali, cioè mai vaccinati, 478 alla materna e 181 al nido, oppure ai quali manca qualcuna delle 10 vaccinazioni obbligatorie, 116 alla materna e oltre 180 al nido. E questo è il lavoro che a partire da agosto, dopo l'entrata in vigore della legge che introduce l'obbligo delle vaccinazioni per poter frequentare scuole dell'infanzia ma anche elementari e medie, sta svolgendo l'ASL di Ferrara assieme all'istituzione scuola. Ad alcune famiglie però di bambini che frequentano le materne, ad oggi la documentazione non è arrivata, nonostante fosse il giorno ultimo per presentarla. Queste famiglie semplicemente prenderanno a scuola il modulo di autocertificazione e autocertificheranno lo stato vaccinale dei propri bambini in attesa che arrivi il documento dell'ASL. Questo è quello che le famiglie dei bambini che frequentano le scuole materne debbono fare. Per chi frequenta il nido non c'è problema perché le certificazioni sono arrivate tutte, per chi frequenta la scuola dell'obbligo non c'è problema perché la scadenza è il 31 ottobre quindi c'è ancora molto tempo per ricevere la documentazione. In ogni caso non verrà allontanato nessuno, cioè nel momento in cui si presenta l'autocertificazione. Chi non è stato ancora vaccinato dovrà presentare la dichiarazione di avere un appuntamento per le vaccinazioni, per completare il proprio ciclo vaccinato. Tutte queste autocertificazioni però debbono venire come dire confermate dal fatto che poi i bambini vengono vaccinati entro il 10 marzo 2018. Purtroppo però spiega la dottoressa Cova molti genitori non si presentano agli appuntamenti, alcuni rinviano telefonicamente o con lettere mail, altri addirittura si presentano ma non vaccinano prendendosi tempo. Un tempo che però a marzo scadrà e allora non ci saranno rinvii o rimpensamenti. I bimbi non vaccinati non potranno più frequentare il nido o la materna a cui sono iscritti. Noi aderiamo alle richieste di spostamento che possono essere prese sia telefonicamente che con mail, però ovviamente queste richieste debbono essere giustificate e giustificabili. E quindi per ora abbiamo pensato di non concedere più di due spostamenti valutando comunque caso per caso, perché i casi non sono tutti uguali, la situazione è molto delicata. L'obiettivo in realtà appunto è convincere i genitori che questa legge, seppure può sembrare una legge, come dire, una forzatura della volontà delle persone allo scopo di proteggere i bambini, proteggere tutti i bambini, quindi proteggere bambini che non hanno problemi, ma proteggere soprattutto quei bambini che per problemi personali, sanitari, per condizioni particolari non possono accedere alle vaccinazioni e quindi sono più vulnerabili.